Fanno come, non so, come se volessero vincere i turchi, ancora una volta. No, no, basta tre secoli fa. Sì, non c'è bisogno di una nuova battaglia. Sì, sì, oggi c'è. Ha letto i giornali, i giornali austriaci lei allora? Non leggo i giornali, se posso non leggo. Sì, questa visita era importante per i polacchi. Sì, per i polacchi. Sì, certamente anche, perché c'è una differenza, una referenza comune, no? Questi 300 anni era un problema comune nel 1683.